Per ridare Gabriele D'Annunzio nei 150 anni dalla sua nascita in questa pescara che mai troppo degnamente lo ricorda, mi sia permesso recitare una poesia che D'Annunzio scrisse in pescarese all'allora ministro dell'agricoltura di Benito Mussolini, il loretese Giacomino Acerpo. Mi scimmannate questa pochetta d'oro che certo della cotta sanno già a te che sta ricorda Giacomino di me che gli va a fare freddato e a fare l'amore. Ma dimmi, chi ci ha messo questo sapore di corso Gabriele mandone a Giacomino? Non sa perché, ma mentre che le mani mi piangono il cuore, sulleva la domenica la panna di pescarese in che lo piatto in mano correvano a comprarsene una fetta che è, che nemmeno una cosa grande, non venne caluceva di lontano se aveva affacciato pure Donna Lisetta. Auguri Gabriele! Grazie! Grazie!